Sono qui con Andrea Fraga al termine di Trento per Vercelli 1-0. Andrea, come detto col Mistri, una partita in equilibrio decisa da un episodio alla fine del primo tempo. Sì, un primo tempo sostanzialmente equilibrato. Penso che una squadra con un po' più di esperienza, l'abbiamo visto anche nelle partite passate, dove magari qualche occasione con poca esperienza portavi a casa dei punti, ti fai prendere poi un gol così allo scadere e un po' ha fatto saltare poi un po' gli equilibri. Poi il secondo tempo è forzato, ho provato un po', penso che ho tolto due ripartenze per errori nostri, sostanzialmente ho provato a fare gol e non ci sei riuscito. Questa è stata in sintesi la partita. Dispiace perché poi sembra che quello che lavori, quello che provi durante la settimana, va un po' buttato così per l'aria, però l'unica ricerca è per lavorare, continuare e correggere insomma quelle piccole cose e migliorare. Grazie Andrea.